Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora partiamo da questo. Questa è una specie di video tutorial, non un video dove praticamente vi spiego determinate cose. E perché ci fai questo video qua? Ci fai questo video qua perché qualche tempo fa, dipenderà ovviamente da quando anche guarderete questo video, potrebbe capitare che lo guardate magari tra un anno, io non lo so, comunque vi ricapito la situazione così riuscite a capire come capire questo video. Ecco, qualche tempo fa nel mese di settembre 2024, ripeto non so quando guarderete questo video, era successo che a molte persone che prendevano l'assegno d'inclusione la domanda era decaduta. Allora cosa hanno fatto? Ovviamente tutti quanti allarmati hanno chiamato l'Inps chiedendo informazioni. E l'Inps si era campata su una scusa dicendo eh sì c'è un problema di comunicazione, un po' come quella c'è un problema di comunicazione. Oppure dicevano c'è un problema di mancato collegamento, che non recepivano bene le domande di assegno d'inclusione con i pagamenti. Però guarda caso nel 90% dei casi era successo, non nel 90%, nella maggior parte dei casi era successo a tutti coloro che avevano all'interno del nucleo familiare una persona con disabilità. O direttamente la persona interessata era con disabilità e quindi la domanda risultava decaduta. Poi fortunatamente l'Inps ha sistemato tutto quanto, quindi la cosa è andata avanti tranquillamente e via. Però ovviamente ci sono state persone che non a tutti questa cosa è stata risolta e quindi le domande hanno continuato a essere decadute. Allora cosa ho fatto io? Ed è lì che torniamo al discorso del video tutorial. Ho fatto delle ricerche e sono andato sul sito internet dell'Inps per capire come mai questa cosa fosse successa. E ovviamente ho trovato dei casi che effettivamente secondo me potrebbero esservi utili. Quindi ci sono dei casi di sospensione, di revoca e di decadenza e ci spiega tutto quanto. Poi come sempre io vi lascio qui sotto nella info box il collegamento al sito internet dell'Inps così se dovesse mancare qualcosa come sempre ve lo potete andare a vedere direttamente voi e ve lo potete studiare. Però io oggi cosa faccio? Vi riassumo brevemente alcuni casi. Quindi partiamo dai casi di sospensione. Inps dice che ci sono dei casi di sospensione per esempio in misura cautelare personale, con provvedimenti non definitivi di condanna, latitanti, sottrattisi volontariamente all'esecuzione della pena, non ottemperanza agli obblighi di presentazione dei servizi competenti, oppure la mancata accettazione dell'offerta di lavoro da 1 a 6 mesi. Questo è il caso di sospensione. Poi c'è il caso della revoca. E qua ci dice che nel caso in cui ci siano delle dichiarazioni omesse, mendaci, cioè non dichiari qualcosa o che le dici false all'interno della domanda del beneficio, è nelle successive comunicazioni obbligatorie che riguardano le variazioni del reddito, del patrimonio o della composizione del nucleo familiare. Questa cosa qua fa praticamente rivocare la domanda. E poi c'è il caso della decadenza. Brum, decadenza, bam, fine. E qua dice che c'è una condanna in via di definitiva, un patteggiamento, una mancata sottoscrizione del patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, un componente del nucleo che non si presenta ai servizi sociali o il servizio per il lavoro competente senza giustificato motivo. E questo secondo me è il caso classico. Il caso classico, ah non vado, mi ha chiamato, non vado, chi se ne frega. E ovviamente sta cosa fa decadere tutto quanto. Poi lo sapete, una volta decaduta, rifare tutto quanto ripresenta documenti, tempo, soldi, nervoso, grattacapi e quant'altro. Mi raccomando. Un altro caso di decadenza potrebbe essere l'assenza ingestificata a iniziative formative o altra iniziativa di politica attiva. Oppure la mancata accettazione di un'offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili. Mancate o false comunicazioni che influiscono sulla prestazione. Un membro del nucleo familiare viene trovato a svolgere un'attività lavorativa e bla bla bla. E poi ovviamente ci spiega che cosa vuol dire la sospensione, cosa vuol dire la decadenza e che cosa vuol dire la revoca. Allora, la sospensione dice che comporta l'interruzione dell'erogazione della prestazione al verificarsi di un determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell'evento che ha prodotto la sospensione. Ok? Mi sembra abbastanza facile da capire. La decadenza invece dal beneficio comporta il venir meno dell'erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell'evento. Pertanto, dice, se la decadenza è applicata contestualmente all'evento non vi saranno prestazioni in debite da recuperare. Finisce lì, l'Inps non recupera niente. Se invece la decadenza è applicata in un momento successivo, ovviamente al verificarsi dell'evento, quindi non so, ti fanno fare la decadenza tre mesi dopo quando si accorgono una determinata cosa, allora, dice, si dovrà procedere al recupero di quanto indebitamente è percepito dal beneficiario dalla data dell'evento fino all'ultimo pagamento. Invece, l'ultimo caso, la revoca, qua dice, comporta il venir meno del diritto alla prestazione. Venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda con, che non finisce qui, con obbligo di restituzione da parte del beneficiario di tutti gli importi debitamente percepiti. Quindi diciamo che in una forma è simile alla sospensione, solo che la sospensione, lo dice già la parola, sospensione. La revoca, anche qua lo dice la stessa parola, la revoca. E che sono due cose completamente diverse. Funzionano nello stesso modo, però, uno è sospeso e l'altro è revocato. Poi va avanti, decine dei condanni di condanna definitiva, articolo 8, e questa parte qua io la salto. E le ultime due righe dicono, nei casi diversi da quelli sopra citati, non so quali altri casi potrebbero esserci, sinceramente, il beneficio può essere richiesto da un componente, il nucleo familiare, solo dei corsi, attenzione, solo dei corsi, quindi solo passati, sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza. Attenzione, qui parla dalla data di, solo sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza. Non parla del caso della sospensione. Evidentemente perché il caso della sospensione è probabilmente molto più facile da gestire e quindi non dovrebbe creare grossissimi problemi. La decadenza, la revoca, è lì, è lì, sì, sono grattacapi perché se ti viene recaduto, è ok, ma se viene revocato, lì c'è poco da fare, bisogna andare a capire come mai è stato revocato. Attenzione, e comunque la revoca succede, come ho detto prima, quando ci sono delle dichiarazioni omesse, quindi non si dice qualcosa, quando dice qualcosa che non è vero, all'interno della domanda del beneficio e anche nelle successive comunicazioni obbligatorie che riguardano il reddito, il patrimonio e la composizione del nucleo familiare. Esempio, abita una persona qua, un familiare abita qui e non lo vado a dire subito, poi me lo richiedono di nuovo, non lo ridico di nuovo, è lì che c'è la revoca. Comunque, come vi ho detto, io vi lascio poi qui sotto nella info box di questo video il collegamento a questo, scus'è, un messaggio, aspettate che ve lo dico, una comunicazione dell'Inps, no, è una comunicazione dell'Inps, ve la potete andare a leggere, comunque vabbè, ne abbiamo già parlato all'interno di questo video, quindi, boh, vabbè, a parte il caso dove si parla della condanna definitiva, tutto il resto l'abbiamo già discusso, però se vi interessa ve lo potete andare a leggere qui sotto. Prima di concludere però vi ricordo anche la convenienza dell'abbonamento al mio canale YouTube. Ripeto sempre, l'abbonamento è una cosa completamente diversa dall'iscrizione al canale, perché con l'abbonamento avete dei vantaggi in più che con l'iscrizione non c'è, e lì è una bella differenza, tra cui video riservati solo agli abbonati, commenti prioritari sotto i video riservati agli abbonati, e poi con l'abbonamento VIP, l'abbonamento top, quindi quello che io chiamo l'abbonamento VIP, c'è la possibilità di avere una sessione telefonica di 30 minuti con me tutti i mesi per parlare del più o del meno, raccontarsi le cose, insomma, si può parlare con me direttamente per 30 minuti una volta al mese, e quindi questa cosa l'ho aggiunta perché la trovo una cosa molto, molto, molto interessante e potrebbe tornarvi utile, ok? Potete trovare maggiori informazioni sull'abbonamento del mio canale andando nella home page, quindi la pagina principale del mio canale di YouTube, sotto il mio nome c'è un collegamento, voi cliccate su quel collegamento lì sotto e vi si apre il menu appunto degli abbonamenti, oltre a tante altre cosine, quindi andate a vedere là. Io vi ringrazio per avermi guardato, ci vediamo in un prossimo video, attivate la campanellina mi raccomando, e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao! Grazie! 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 Grazie!